E' entrato in vigore il nuovo regolamento europeo per l'etichettatura dell'olio d'oliva. E' stata una battaglia tutta italiana in seno all'Unione Europea al servizio di Lisa Malfatto. E' il ministro Luca Zaia, nel luogo in cui dal 39 arde una lampada votiva con olio d'oliva, a produrre simbolicamente la prima bottiglia d'olio con la nuova etichetta rivoluzionaria, che in tutta Europa ne indica la rintracciabilità, e cioè la certificazione della provenienza dell'oliva e del paese produttore. Una vera e propria festa per l'olio italiano e per la legge che lo tutela, quella organizzata dal ministero alle politiche agricole, con un piccolo frantoio appositamente allestito davanti alla basilica di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, simbolo di una regione, l'Umbria, in cui risiedono alcune delle realtà più antiche nella coltivazione e produzione dell'oro verde italiano. Una giornata storica, secondo Zaia, una vittoria culturale degli agricoltori italiani, che affonda le sue radici nei valori più profondi del mondo rurale, spesso vicini. a quelli del francescanesimo. Questa è una vittoria tutta italiana, una vittoria soprattutto di questi 12 mesi di governo, che ci ha permesso di avere il 6 marzo 2009 direttamente il decreto, il regolamento pubblicato sulla Gazzetta Europea. La prossima battaglia? È l'estensione dell'origine obbligatoria in etichetta per tutti i prodotti dell'agroalimentare. Abbiamo già presentato il disegno di legge, è stato approvato in seconda lettura al governo ed è oggi in discussione in Parlamento, per cui è verosimile che per fine anno sia legge.